L'Aquila continua a non conoscere la parola pareggio. Reduce infatti dalle due amare trasferte consecutive di Carpi e Villacidro, alla formazione di Bitetto Basta e Lampo di Alessandro Potenza per tornare a scalare la classifica. Senza Falconieri, ancora squalificato, tocca al tridente Galli Potenza Piccioni, far male alla Giacomense che arriva al Fattori con i galloni di terza della classe. Grigio Verdi all'inizio più reattivi, Rossi sfrutta l'area spinta di Ruggero ma spara a lato, mentre Modesti non ha problemi a controllare la conclusione velleitaria di Tanaglia. Intorno alla mezz'ora rischia Ferrani, Ammonito un minuto prima travolge Onesti in maniera scomposta, per Maresca di Napoli non ci sono gli estremi per il rosso. Sul finale di tempo esce L'Aquila, Perfetti colpisce male il suggerimento di Prete, mentre Precisi un minuto dopo il lancio di Onesti e il taglio di Potenza. Il numero 7 è solo dinanzi a Poluzzi, esterno destro sul palo e prima frazione che si chiude a reti bianche. Ma alla ripresa esce dagli spogliatoi un'altra Aquila, pericolosa in sequenza già all'inizio col sinistro alto di Galli e col cross di Perfetti che trova la sponda ancora di Potenza, ma Piccioni da ottima posizione conclude come peggio non potrebbe. Proprio Piccioni, poco dopo cicca fuori il destro sul vito di Galli, quattro giri di lancette prima del triangolo Perfetti-Galli-Potenza. L'assist del centroavanti libera l'ex provasto, botta sul primo palo e palla in fondo al sacco. Nel finale sale la cifra del gioco grigio-verde e per forza di cose l'Aquila è costretta a stringere i denti. Il buco di Cavasini libera l'appoggio di Staffolani per Bravo, il sinistro è decisamente impreciso. La risposta dell'Aquila nel gol annullato a Galli, Maresca non si accorge della segnalazione del fuorigioco dell'assistente napolano. La punta segna, esulta, ma il suo urlo è strozzato dal fischio, che definire tardivo è poco, del fischietto partenopeo. Ultimi secondi piacevoli per merito del sinistro alto di Peron e dalla ripartenza fulminea dell'Aquila vanificata dal passaggio errato di Galli ancora per Potenza. E così tornano alla vittoria Rosso-Blu. Per la banda Bitetto finora solo vittorie e sconfitte. Ora la sosta. Poi occorrerà a presentarsi a San Marino con la voglia di far bene tanto quanto oggi. Dopo la delusione di domenica scorsa in Sardegna, insomma, che abbiamo perso quella partita in quel modo e dove purtroppo per quei due episodi diciamo che c'erano stati, oggi abbiamo chiesto alla squadra il riscatto e l'abbiamo avuto. Devo dire che la squadra ha avuto una bella prestazione. Con i primi dieci minuti, quarto d'ora del secondo tempo abbiamo perso un po' di campo, non siamo riusciti più a gestire bene la palla quando la riconquistavamo e abbiamo rischiato una volta di subire l'1-0, poi ci ha fatto gol a Potenza e quella è stata un po' la pecca di questa partita perché per il resto credo che anche oggi la squadra si sia dimostrata competitiva all'altezza di questo campionato e quindi la prestazione comunque mi lascia soddisfatto anche se mi dispiace per il risultato. E oggi credo che comunque è stata una vittoria meritata, vuoi per le occasioni avute e vuoi anche per un secondo tempo, iniziato sin dalle prime battute del secondo tempo abbiamo iniziato veramente un'altra partita che ci ha portato non solo a creare diverse azioni da rete ma a quella molto bella di Potenza. Stiamo riflettendo a fine partita, questa è una squadra che non conosce il pareggio, o vince o perde. Con i tre punti funziona così, lui dice di dare sempre il massimo e di cercare di vincere le partite, quindi dove andiamo o in casa fuori il mister va per vincere la partita, però purtroppo spesso può succedere che si perde.